Al teatro comunale di Sassari, dopo il grande successo dei primi due concerti, prosegue la stagione sinfonica del De Carolis con un nuovo tesissimo appuntamento. Sul palco a dirigere l'orchestra dell'ente un esponente di punta del concertismo mondiale, Umberto Benedetti Michelangeli, impegnato in un programma dedicato a Mozart e Beethoven. Sul palco del comunale salirà in questa occasione anche un'altra affermata interprete, la pianista Leonora Arnellini, tra i vincitori del concorso pianistico internazionale Chopin. La serata inizierà con il concerto per pianoforte e orchestra numero 5 di Mozart, seguito dalla celebre Sinfonia numero 5 di Beethoven. Anche in questa occasione il fulcro della produzione resta all'orchestra dell'ente, molto apprezzata da pubblico e critica anche nel corso di questa ultima stagione sinfonica.